La coppia di busti in porcellana bisqui, ovvero senza nessun tipo di rivestimento, faceva originariamente parte del Tempietto Boselli, una struttura architettonica di gusto neoclassico con pergolato antistante, ad oggi situato nei giardini pubblici di Via Dante Alighieri, ma proveniente dalla vecchia casa e fabbrica dell'artista savonese e donata dal suo ultimo proprietario al comune di Savona prima della demolizione dell'immobile. I soggetti rappresentati sono con tutta probabilità i genitori del Boselli, Paola Canepa e Giuseppe Boselli, ritratti qui senza nessun tipo di idealizzazione, ma nella semplice resa realistica della fisionomia dovuta alla loro età ormai avanzata. Interessante l'uso che l'artista fa qui della porcellana e della terraglia, a imitazione di materiali più nobili come il marmo bianco di Carrara per i busti e di marmi colorati e screziati per i supporti, dimostrazione dell'abilità ed ecliticità del maestro nella lavorazione di questo materiale.